Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del Tg regionale del Veneto. Ed ora lo sport, oggi cominciamo con il beach volley a Caorle, le finali di Coppa Italia maschili e femminili, grande l'affluenza di pubblico per un appuntamento che ha trasformato il litorale veneziano nella capitale del beach volley. Vediamo. Tre giorni di grande beach volley sulla spiaggia di Caorle. Qui, sul litorale veneziano, si sono appena concluse le finali di Coppa Italia maschile e femminile. Il weekend appena trascorso ha visto trionfare nella Peter Pan Arena tra gli uomini la coppia Marco Caminati ed Enrico Rossi, già campioni d'Italia in carica, mentre tra le donne Eleonora Gili e Silvia Costantini. Rossi e Caminati hanno vinto al terzo set dopo quasi un'ora di gioco contro il duo Andreatta Abbiate. In svantaggio, dopo il primo set, i campioni in carica hanno rovesciato il risultato nei due set successivi. Analogo copione nelle finali femminili, dove Gili e Costantini, prima in svantaggio, hanno poi piegato le avversarie Giombini-Zuccarelli. Quella andata in scena è la penultima tappa del circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, che quest'anno si è svolto sulle spiagge del litorale italiano. Il prossimo weekend ci sarà l'ultimo appuntamento a Catania, dove verrà assegnato il titolo italiano. È tutto, il telegiornale torna come sempre alle 19.35. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.